ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video ragazza grande richiesta oggi smontiamo il c1 protib oggi ragazzi questo monopattino dal primo momento che l'ho visto l'ho classificato come un buon prodotto ma già visto dall'esterno visto dalla dalla scocca visto dalla massa visto dagli assemblaggi oggi scopriamo insieme come dentro il vano batteria eccolo qui ragazzi veramente veramente ottimo niente a che vedere col cubo m4 pro chiave in precedenza perché ragazzi perché come vedi è ordinatissimo pulito e lo spazio è molto molto più grande della batteria stessa questo vuol dire che andando a costruire una batteria doc potrai andare ad avere molta 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 più capacità sfruttando lo stesso spazio i gablaggi ragazzi ora vi faccio vedere i gablaggi ti ricordo sotto in descrizione trovi il link diretto per acquistarlo ragazzi vi voglio far vedere la pulizia dei gablaggi questi sono i cavi del motore 123 che sono quello blu quello giallo e quello verde guarda qui isolati anche se questo è uscito fuori ma va bene ora lo sistemo io e poi c'è il connettore qua sotto che è quello dei sensori e poi la cxt 60 con una specie di sdoppiatore la batteria ragazzi è questa qui 48 volt 13 ampere ora il controller originale del c1 pro è questo boggi all'etichetta ed è un 48 volt low level come frenata rigenerativa a basso livello 25 ampere comunque ragazzi questo volendo si può anche potenziare far andare ancora di più però onestamente l'ho provato messo a paragone al q m4 pro il mio quello potenziato questo è molto ma molto più forte molto ma molto più prestazionale anche in salita ragazzi perciò credo proprio di non toccarlo non lo modificherò se poi un domani voglio modificarlo già so come fare in poco si riesce a raddoppiare le prestazioni e niente ti ripeto che sotto in descrizione trovi sia il link su amazon sia il link sul sito ufficiale di bogist dove troverai un'offerta speciale poi ragazzi vi invito tutti al canale telegram iscriviti al canale youtube lascia un mi piace un commento fammi sapere cosa ne pensi di questo monopattino elettrico di questo assemblaggio così bello come vedi anche in foto pulito ordinato ragazzi non si scherza in questi mezzi cioè chi quel quelli che prendono fuoco tante volte possono anche essere causa del mal assemblaggio meglio sono quasi sempre causa di un mal assemblaggio in questo caso invece l'assemblaggio è davvero davvero fatto bene la batteria come vedi isolata c'è tutto il silicone entrambi i lati e la centralina idem anche isolata infatti riportano questo monopattino come p 65 cioè stagno se prende acqua sia dal lato sotto che dal lato sopra non dovrebbe avere problemi questo inverno se tutto va bene lo proveremo e andremo a fare un altro video recensione ciao ragazzi al prossimo video